Benvenuti amici sportivi al sesto episodio di questo Raw WB Universal Stagione non ufficiale della World Code WB Universal Quindi sesto episodio di Raw che si pronuncia scoppiettante Che inizia con un messo da favola Max Cougar, leggenda ASW contro l'ex campione Anzi l'attuale campione TWF in questa stagione non ufficiale Ex campione della stagione ufficiale della WBF Per il TWF chiaramente Venna, che devi stare attento anche alle eventuali interferenze di Ernemor Secondo match che vedrà invece Brock Bane contro Nicholson Entrambi a lei di TWF Davvero un bel match anche in questo, molto tecnico Terzo match invece che vedrà una leggenda delle Comuniali Insomma, leggenda di Jackpot Contro una leggenda della TWF, Steph Andrews Quarto match che invece vedrà il dominatore Il dominante Ernemor Contro un'altra leggenda Ranger Idol, Stephens E fine Meneventa Andrew Seymar, campione internazionale in questa stagione non ufficiale Contro il panchettaro Zeo Giant Possiamo dunque Iniziare con il primo match del serato Che vedrà Max Cougar Contro Venna Eccolo qui Beh, se Vendor non è riuscito a domarlo A fermarlo Max Cougar è riuscito a vincere questa fight Davvero molto bella Ora si inizia Si ha un nuovo percorso Per questo ragazzo Max Cougar Che dunque E beh, è propenso a diventare uno dei prossimi sfidanti Al titolo TWF Ora c'è anche Ernemor E dalla calcia a Venna L'avversario di Max Cougar odierno Sarà un match in senso Dubbio molto molto importante per entrambi E per Venna Per consolidare il suo primato L'altra parte E per mannare Max Cougar Dimostrare che Il campion che il rasoio giapponese E neanche il rasoio giapponese Può fermarlo E dunque Sarà una sfida molto interessante Andiamo sulla ringa Max Cougar Manca soltanto l'ingresso Di Venna I fanno Sembrano in gran parte anche per Max E' molto strano però Insomma La leggenda è sempre una leggenda La porta del camerino si apre Questo è Ben Il campione del mondo TWF Beh ragazzi Questo è tremendo E' molto più benna E' molto più benna Pronto Per una battaglia Contro Max Cougar Mamma mia che match ragazzi Che apre le danze E' un errore Si può iniziare Super Max Cougar Assalto Ma Benna Ebbè E' difficile solo da buttare giù Lo saprei E' un errore danze E' un errore danze E' un errore danze Quindi mamma mia Questo sample suplex E poi Spinebuster Immediato Da parte Di Niente meno Di Benna Che ancora Un grana Niente da fare Max Cougar Con il blocza E lo solleva addirittura 150 kg sollevato Mamma mia ragazzi Che potenza Max Cougar Anche E' una furia Questo Questo è davvero Una furia E' un match Molto interessante Anche per questo Uh Belli tu belli Ordi Edda Sopra Oltre la testa Davvero una manovra Eccellente Questa Di Benna Sappiamo Lo conosciamo ormai Benna E' capace di tutto Abbiamo visto anche A Rai Sinzana Contro Slega Ma Una sfida al volo Davvero una mossa Incredibile Però D'altra parte C'è un altro che Può far tutto Ovvero Max Cougar Che è capace di far tutto Sì davvero Molte volte Stanno troppo criticato Questa però E' una leggenda Dovrebbe meritare Ma c'è rispetto C'è rispetto Da parte mia C'è rispetto Da parte dei miei colleghi A Max Cougar Senza dubbio E' una delle Le icone Insomma Dello sport spettacolo Del wrestling mondiale Oh Attenzettato qui Respinta E poi Oh Stanley Drocky Bravo Cougar Qui l'esperienza Eeeh Vale la pena Di guardare questo match Solo per l'esperienza Yakuza Kika Anzi Yazuka Kika E' un po' un boy Non ricordo bene L'exatta definizione Il si noia Il si noia è riuscito qua Max Kugler sneak ice in arrivo su Ben bella botta che ha immediato ma Max Kugler sta lottando molto bene si si non perde di vista un attimo il proprio avversario mi sembra che in questa rush a Rossip ha come un tentacolo sempre come una medusa sempre lì con i suoi tentacoli sul corpo della il povero avversario oh però qui Ben lo annihilisce con questa sconibasta la potenza è tutta la parte di Ben però anche Max Kugler non è da buttare via oh attenzione Ben Uppelli strepitoso qui Ben che potenza e poi poi lo slamo di Max Kugler strepitoso semplicemente strepitoso questa manovra davvero strepitosa poi lascia le sweep è il momento di Max di chiudere se vuoi chiudere lo devi fare adesso Ben mi sembrava che mi sembra un po' più stordino del solito però riesce a buttarlo via e il slip ancora fissare l'andese più lenta va con un shot del blocco molto bravo molto bravo oh qui lo prende Ben una serie di pugni mamma mia ragazzi e poi lo lancia via lancio il lancio del Cougar mamma mia guarda oh Max però si è rotto le tanniche si è rotto le tanniche Max Kugler qua però Ben lo prende lo butta forse fuori no lo riprende e c'è la spy monster qua l'ha preso e poi lo sa porfare oh 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 leg lock una ankle lock addirittura non ha preso la caviglia per forse non ci sono le corde ma qui Max è arrischiato Ben non sa non ha più il diavolo lo va a prendere oh no Max Kugler ne batta lo rialza attenzione mentre fare Ben blocca il pugno dell'avversario e è pronto a chiudere forse oh vertical suplex in arrivo si ria segno ancora lì ancora lì Ben è pronto Ben è pronto forse per chiudere oh 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 military press slam un corillo press slam e poi spinebuster accompagnata devastante qua l'ha chiuso qua l'ha chiude che manovra troppo forte questa Ven non lo si può battere uno due e c'è solo il due c'è solo il due e però e però adesso arriverà anche il vertebrae e poi chiude il gioco qua chiude il gioco mamma mia comba allucinante una combo stratosferica qui Max Kugler non pare a sarsi ci mette un po' però eh uno due infatti Max Kugler si rialza ancora non so di attenzione e c'è un'altra sperma ma non è qui Max Kugler quasi ridicolizzato troppo potente questo Ven questo Ven è davvero una forza della natura uno due intanto non ancora sta resistendo stoicamente guardate qui non c'è più non c'è più Ben qua è riuscito bravo Kugler qui non può fare Ben lo rigira però del colpo attenzione ecco il lock allora stavolta dalla parte del Kugler si Max Kugler riesce in queste manovre ma Ben lo blocca attenzione un alled blocco incredibile giapponese questa manovra antica giapponese Kugler stava per cedere qua Kugler stava per cedere si è liberato grazie alla sua maggiore esperienza ma Kugler qui lo gira attenzione lo lancia Ben Don Bell invece di Ben qua è pronto a chiudere il match e beh penso non ci sia più nulla da fare per Max Kugler uno due e tre no il kick out assurdo questo era un kick out assurdo attenzione qua oh braccio teso all'angolo bravissimo Max ed ora può davvero far suo il match si sa dei pugni chiusi che l'argomento neanche le darguisce lo rialza venga qui e sordita attenzione altri pugni la metterà supera vissoso controvenna dai come suicidarsi infatti qua Berag l'abbraccio dell'orso attenzione è dentro è dentro e cede ma scusa cede incredibile Ben è troppo forte per chiudere quanto è forte questo Ben addirittura Kugler ha ceduto mamma mia ragazzi che prestazione di Ben che aveva dei dubbi su questo ragazzo oggi può togliersi perché davvero questo Ben è di una potenza assurda cioè batti chiunque e Ben contro Ernavora sarà poi questo match ne verrà fuori qualcosa di incredibile qualcosa di apocalipcio qualcosa di epico mamma mia ragazzi che match ma che prestazione di Ben Max Super ha fatto il possibile però non è mai riuscito a ottenere insomma il pass per lasciapassare per la mossa finale è quello che ha da un po' ha fatto rimanere un po' indietro nel corso dell'incontro non c'è traccia di Ernemoro per fortuna di Ben tutto l'incio come l'olio ora passiamo al secondo match ragazzi eccolo qui il Nobleman il Cobra della WPF lui è Brock O'Bain una sfida tra due di certo tra due personaggi non amati odiati dal pubblico come Brock O'Bain e Nicholson forse oggi magari vogliono vedere truffare Brock O'Bain visto che insomma quello tra i due meno odiati ma è un paradosso alla fine dire che Brock O'Bain è un meno odiato però provo a dobbiamo metterla anche per la storia Brock O'Bain alla fine non ha un'odio che lo portassero a un odio così incredibile l'unica parola potrebbe essere quella con neanche con Fongesan quella con Andro Simard nel corso del 1 e 20 insomma questa è altra storia oggi il suo ring andrà contro Nicholson e allora gli vedremo delle belle la classe del Brock O'Bain ma contro altrettanta tecnica anzi soprattutto la tecnica di Nicholson perché alla fine è praticamente elegante quando entra poi si scatena è tutt'altro forte che elegante quando si scatena sul ring eccolo qui Nicholson beh campione del mondo di WF in quella della stagione ufficiale della WF di Racing Sun qui però con ancora una cintura di Dodgers prima di metto questi atversari Nicholson che veramente può ambire a molto dovunque gli vada mister amazing Nicholson si può partire subito Nicholson una bella una bella una bella forza brutta anche perché questi sono due colossi sono Nicholson eh è molto più alto di Gobain però Gobain ha una bella resistenza una bella forza Nicholson però subito shoulder block quanto è forte ragazzi si sta dimostrando che è anche abbastanza agile io penso che questa potrebbe essere la tornata non solo come tappetizzata ma potrebbe anche tentare di vincere anche l'altro titolo ma una rettoria internazionale però sappiamo che essere una step con molti contenenti non è mai facile poi dire la sua la prova no perché poi devi dimostrare agli altri che tieni anche gli altri lui che tiene altri componenti dunque non è facile per esempio Stregona è Enzi Laru sono due molto orgogliosi che vogliono i titoli a qualunque costo poi c'è ovviamente Kim Starbeek che è un campione internazionale c'è Ernevor che abbiamo visto quello che ha fatto ATG gli ha strappato il titolo del WS dunque adesso potrebbe ambire penso il titolo WBF perché non credo che Cecco lo manderà contro suo stesso compagno di Coppoli non avrebbe senso invece iniziere il titolo WBF sarebbe come dire noi della old school abbiamo la WBF in mano sarebbe caro Ernevor da una parte il titolo WBF dall'altra parte dico insomma sarebbe davvero un duetto